A Misano si affronta due piacevoli sorprese di questo torneo e Misano ha come obiettivo quello di arrivare il più in alto possibile divertendosi i russi di raggiungere il più possibile la salvezza in una stagione che arrivava dopo la mala retrocessione dall'eccedenza. La partita non è tra le più belle viste stagione, l'inizio è però di marca locale, colpo di testa di Urbinati termina abbondantemente a lato. Dall'angolo i padroni di casa insistono e vanno vicino al versaglio grazie alla complicità del portiere Casadio, Lombardi allontano il pericolo. Replica del russi, colpo di testa di Filippi fuori misura. All'attaccante riesce meglio giocare il pallone con i piedi, contro il piede però calce in bocca a cuomo. Nella ripresa si parte con un trio di Urbinati bloccato da Casadio, Lombardi invece per i russi dalla distanza mette abbondantemente a lato. Più preciso Filippi che una volta entrato in area di rigore calcia addosso a cuomo. Ma il russi sblocca la gara qualche minuto dopo, Rava dalla destra mentre al centro per il perfetto inserimento di Filippi che trova così l'1-0. Neppure il tempo di insultare che Magnani in fase di retropassaggio di testa accompagna la palla sui piedi di Stella che approfitta nei migliori dei modi per l'1-1 finale. Il risultato non cambierà più anche se le squadre creano un'occasione per parte. Tassinari da calcio piazzato impegna così cuomo, aumento Urbinati sfruttando un corno di testa centra la traversa. 1-1 il finale.